Buongiorno, buongiorno e ben Ben ritrovati in questa edizione di venerdì 19 agosto di mattino 6, la nostra rassegna stampa che vi terrà compagnia nel corso della mattinata sfogliando le prime pagine dei quotidiani nazionali e le prime pagine ma anche le pagine interne dei principali quotidiani locali. Sì, peraltro in una parte dell'Abruzzo ma non solo, c'è la grande attesa questa mattina per la finale olimpica con l'ortonese Paolo Nicolai impegnato contro la coppia brasiliana con il suo partner Lupo. Purtroppo è andata male, la coppia italiana ha lottato fino in fondo ma alla fine la coppia carioca si è imposta per 2-7 a 0. Più tardi vedremo le immagini della premiazione nel corso della nostra rassegna stampa. Resta però la medaglia d'argento portata a casa dall'atleta ortonese. Una splendida olimpiade per lui, delusione ancora più marcata per un altro abruzzese, il pescarese Francesco Di Fulvio che ieri sera è stato sconfitto con la nazionale azzurra di pallannuoto dalla Serbia. E ora si punta al bronzo nella finalina con il Montenegro. Ma andiamo con la cronaca, andiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali che danno spazio in particolare a quanto sta accadendo in Siria. Possiamo partire dalla Repubblica, questo è il titolo d'apertura. Merkel contro il Burka, frena l'integrazione, Berlino valuta il bando dagli uffici, canna al mare tra divieti e soldati. Poi questa foto che praticamente campeggia, che ieri ha suscitato la commozione di tutto il mondo, e praticamente quest'oggi un po' su tutti i quotidiani questa foto, come detto campeggia nelle prime pagine. La foto del piccolo Oman, il bambino ferito di Aleppo che sconvolge il mondo. ONU e Unione Europea, basta bombe, Russia pronta alla tregua. E poi il no ai rifugiati, i profughi a Capalbio, l'ultima spiaggia della sinistra. In basso, cannabis legale aiuta i giovani, il sito di Cantone riapre il dibattito. Ecco come cambierà la vita, spazio, biotech, terapia, il futuro in 20 domande. Poi i furbetti del cartellino alla Grotta Azzurra, a Capri denunciati dei barcaioli. Andiamo avanti, Corriere della Sera, Siria in agonia, aiuti bloccati, l'ONU ferma i convogli, troppo pericoloso, la Russia offre una tregua di 48 ore, demistura ogni giorno, razzi sui civili, non cibo, Libia ha arrestato un reclutatore ISIS in Italia. Poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della loggia, errori e localismi, lo stato in ritirata dal sud. E poi sotto la testata palanoto sconfitto il settebello, oggi sognano le donne. Il racconto, la battaglia di Darwa, vogliamo il diritto di tifare per l'Iran. Ora Merkel boccia il burca, è un ostacolo all'integrazione. In basso Renzi annuncia tasse giù, effetti sul modello Ryanair, attacco di 5 stelle, lega al Premier, una provocazione. Poi Uli, il ragazzo che sfidava il cielo come Icaro, il jumper è precipitato sulle Alpi svizzere, con la sua tuta era diventato, con la sua tuta l'area era diventato una stella della rete. E poi ancora il capo dell'anticorruzione, la cannabis va legalizzata, lo dico, da papà. Avanti con il tempo, fare i puntati sulla capitale, tante promesse, zero fatti, i due mesi flop della Raggi, la giunta grillina immobile tra caos, immondizia e stipendi d'oro, finora nessun provvedimento determinante per la vita dei romani. Poi la fotonotizia, preso Fezzani, recrutatore Isis, continuano i bombardamenti, la guerra negli occhi dei bimbi di Aleppo. E poi condannato dalla RAI a non lavorare, il caso di un dipendente pagato per non far nulla, la colpa degli appalti esterni. E poi i dati del Viminale, Italia più sicura, calano i reati, ma non le pene. E poi, caro Mattarella, legga qua, in questa lettera. Ancora avanti con la stampa, il titolo d'apertura, Inferno Aleppo, fragile tregua sotto le bombe, braccio di ferro tra l'ONU e la Russia, Mosca per ora concede solo 48 ore l'assedio della città siriana, la foto del bimbo diventa un simbolo, le Nazioni Unite, tragedia umanitaria. Poi reclutava i jihadisti in Italia, preso in Libia, catturato mentre cercava di fuggire da Sirte, era scomparso dal 2013. E poi, ancora le dichiarazioni della cancelliera Merkel, il Burka ostacola l'integrazione, ma niente di vieti totali. La cancelliera apre a limitazioni parziali, in Germania pronta la proposta di proibirlo, alle manifestazioni, negli uffici e alla guida dell'auto. Avanti ancora con la prima pagina del Fatto Quotidiano, se in crisi assumi Boschi Junior a Emanuele, 33 anni, la CCC paga una consulenza da 150 mila euro, il giovane commercialista e la Copp Rossa in crisi. Sotto la testata, caro Mattarella, fermi quei test di medicina, una neodiplomata parla appunto di selezione incostituzionale. Poi ancora la giunta Raggi spende meno di tutte, Daniele Fronge intervista al nuovo vice sindaco di Roma. In basso, Aleppo, la foto di Omran che sospende le bombe. Poi ancora la lista della spesa, troppi miliardi virtuali nella manovra d'autunno, non si vive di flessibilità. Olimpiadi, la nazionale, targata Armani, divisa di marca con solo un accenno in Italia. E poi ancora, avanti con la prima pagina di Libero, accogliamo chi ci sfrutta, i profughi non vogliono lavorare. Pazza idea del capo dell'immigrazione, Morcone, vuole affidare a chi arriva occupazioni socialmente utili, ma gli extracomunitari rifiutano di rimboccarsi le mani che preferiscono farsi mantenere dagli italiani. E poi, non rovinate questa foto con la retorica, chi piange per il bimbo è lo stesso che lo ha ridotto così di spalla. A Londra consumia più 6%, i contadini inglesi ne sanno di più dei professoroni dell'Unione Europea. E poi ancora in basso, Capalvio diventa leghista, Alfano con 50 rifugiati ha sputtanato la sinistra, titoli sempre forti quelli di Libero. E poi i capi di MPS, Profumo e Viola, indagati per falso in bilancio, pensare che dovevano salvare la banca. Poi banca. Poi sfogliamo gli altri titoli rapidamente, quelli d'apertura, con l'Avvenire, solo bombe su Aleppo e la sua gente. Il gazzettino, droghe leggere, la svolta di Cantone. La gazzetta del Mezzogiorno reclutava jihadisti in Italia. Il secolo XIX, l'inferno dei bambini ad Aleppo. E ora chiudiamo questa sequenza con la prima pagina del messaggero, prima pagina chiaramente del nazionale. Anche qui i temi trattati sono quelli che più o meno abbiamo visto finora. manovra, ipotesi, tassa per i giganti di Internet. Il governo studia un prelievo sui profitti delle multinazionali web fino a 3 miliardi i possibili incassi. E poi la fotonotizia, l'agonia di Aleppo, la Siria, l'ONU ferma gli aiuti umanitari, troppi rischi, la web, tregua subito la Russia, 48 ore a settimana. E poi lo sguardo di Omran ci fa vedere l'orrore nell'articolo di Francesco Durante. Sotto la testata, domani alla Serie A, Roma Spalletti al lavoro per migliorare la difesa. Olimpiadi, smascherato lotte, la rapina, una invenzione. E poi in basso, cannabis legale. Si può fare, Cantone apre, ma è scontro. I contrari sarebbe colpo alle mafie, falso. E possiamo ora passare ai quotidiani locali, vedendo le prime pagine del centro, partendo dall'edizione aquilana. Questa, l'apertura, Maxi Bolletta, minaccia il suicidio. Piano case, la protesta, sfiora il dramma, casi di conguagli, fino a 2.500 euro. Ecco qui, un uomo che ha minacciato, leggiamo dalla didascaria, ha minacciato di gettarsi nel vuoto, accese di preturo, la protesta all'Aquila contro una nuova ondata di conguagli sulle bollette per il progetto case. Sta assumendo toni drammatici. Scuola in Abruzzo, disponibili 900 posti per i prof di sostegno. E poi ancora, la storia, Don Piccoli e quella carriera fulminante. Il caso è risolto, Sulmona ha il lungo mistero dell'omicidio colabrese. A Sulmona, o meglio, a Pietransieri, nel degrado, i luoghi simbolo dell'eccidio. E poi, il buongiorno Abruzzo di Fabio Casmirro, se anche i bustua, circolano senza revisione. E poi, vediamo da qui ad Avezzano, scuole in 600 senza aule, ritardi e polemiche a 20 giorni dalla riapertura. La prima pagina di Teramo, rotonde e ciclabili, cambia il traffico, nuove rotatorie a fine mese, percorsi per le bici estesi a tutta la città. La fotonotizia al centro, sono troppi 27 mila euro per il concerto dei tiro mancino a Silvie, polemica politica. Poi, i richiami di cronaca a Teramo, appello di una mamma, mio figlio ucciso da un'auto, riaprite il caso. In Val Vibrata, Tortoreto, la regione vuole sfrattare il comune. È sempre in Val Vibrata, sulla bonifica due incendi, minacciano le fabbriche. Sequestri e venditori abusivi, blitz sulla spiaggia giuliese, la merce andrà in beneficenza. Prima pagina ora dell'edizione di Chieti. Tragico schianto muore sull'asse la vittima e l'ex consigliere di Torrevecchia, Dionisio. Tre le auto coinvolte. E qui vediamo appunto la foto della carcassa dell'auto e il tondo con la foto dell'ex consigliere è morto appunto nell'incidente. A Chieti sempre, striscioni contro sindaco e politici, rabbia degli Ultras. Meglio l'arresto, picchia agenti per evitare l'espulsione. Poi in Vasto Lanciano, le ricerche, sparisce da casa, appello per una 45enne. A Vasto invece, frate muore in spiaggia, padre Romano Cecolin, stroncato da Malore, aveva 77 anni. E ora la prima pagina dell'edizione di Pescara che ha il titolo di apertura che è lo stesso che abbiamo visto per l'edizione di Chieti relativo all'incidente in cui ha perso la vita l'ex consigliere di Torrevecchia, Dionisio. Ecco qui, vediamo i richiami di cronaca a Pescara, bagni vietati di notte alla stazione. Sempre a Pescara, calcinacci dal soffitto, a lavori urgenti, comune chiude il mercato ittico e a Montesivano discarica al Via la bonifica da 230 mila euro. Graffica di rimozioni in centro, sempre a Pescara, in Viale Regina Margherita, carroattrezzi in azione e multe salate. Possiamo sfogliare le pagine del centro andando a pagina 7, la pagina dell'Abruzzo, ecco qui, scuola, cattedre e trasferimenti, prof di sostegno, ecco, a 900 posti si apre la speranza di restare per i 386 insegnanti destinati al nord, ma solo per chi è specializzato. E poi in basso le alternative in mano ai docenti, i ricorsi entro 15 giorni e c'è l'aspettativa. Avanti ancora, dall'Erasmus a manager in Cina, qui c'è il dinamismo, intervista di Abruzzesi ovunque, il lungo percorso di Fabrizio Ferri, partito da Giulianova, ora amministratore delegato di Fincantieri a Shanghai, ho frequentato lo scientifico a Giulianova durante gli anni del preside Giulio Belfiore, ho avuto la fortuna di avere professori di alto livello, realizziamo Navi Joint Venture con la società del governo di Pechino, un progetto che ci permette di cogliere opportunità ad elevato potenziale strategico. e poi in basso e Razzi torna in Corea del Nord, il senatore fa tappa anche in Mongolia con lui imprenditori e Daniele Toto. Avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara, raffica di rimozioni con il carroattrezzi, giro di vite dei vigili urbani che in poche ore fanno portare via 11 automobili e appioppano altre 15 multe da 41 euro. Il vice sindaco del Vecchio prosegue nei controlli dopo la riqualificazione della strada con il nuovo manto d'asfalto e la pista ciclabile azzurra. Poi fermati due bus senza revisione e torniamo anche al Buongiorno Abruzzo che abbiamo visto in prima pagina i pullman della tua bloccati mentre erano in servizio su corso Vittorio Emanuele. E poi ancora la stazione Pescara Centrale il bunker dove di notte è biettata la pipì. tutti i servizi chiusi nella sala d'attesa dalle 21 alle 6 toilette compresa un viaggiatore mi hanno detto che potevo andare a farla nell'area di risulta. Avanti ancora sempre a Pescara il vigile assenteista convocato in comune ora rischia il posto davanti alla commissione disciplinare con il suo legale Solari non risponde presenterà una memoria difensiva e poi ancora la rievocazione la lega abruzzese antidroga Villa Sabucchi con i figuranti ancora a Pescara crolli al mercato ittico il comune chiude l'edificio allarme calcinacci dal soffitto le armature del cemento sbriciolate dalla ruggine avviati i lavori urgenti per 190 mila euro la struttura riaprirà il 26 di settembre poi in via Battisti via Battisti è nel caos scatta il blitz dei vigili il comitato troppi rumori i locali non rispettano gli orari Alessandrini ordina controlli nella notte e poi l'iniziativa dell'assessorato al commercio a Pescara negozi del centro aperti fino all'alba per fare il shopping al via stanotte la festa del commercio con musica e sfilate stop alle auto dalle 17.30 sosta gratis nelle aree di risulta in basso i pitbull prigionieri ora sono aggressivi attesa da 10 giorni la decisione sul trasferimento dei due cani lasciati nel recinto dai padroni in carcere e poi l'incidente che si è verificato che ha praticamente ha dato il titolo d'apertura alle edizioni di Pescara e Chieti sull'asse attrezzato ex consigliere muore nello schianto a Dragonara tra le auto coinvolte nell'incidente la vittima è il 55enne Ettore Liberato Dionisio di Torrevecchia Teatina e poi l'ambasciatore d'Algeria in processione Francavilla alla festa di San Franco si chiude con il corteo solenne con 36 confraterniti e i fuochi a mare pagina di Montesilvano Villa Carmine aspirati 800 quintali di percolato emergenza di scarica i liquami liquidi che rischiavano di finire nel fiume sono stati stoccati in cisterna lavori per 230 mila euro e poi ancora nuovi arredi banchi e giochi per 10 mila euro negli asili e nelle scuole sempre di Montesilvano poi ancora nelle aree interne la piazzetta gioiello restaurata dai volontari Loreto Prutino dopo la bufera sui social per i lavori con asfalto davanti al castello Chiole il comitato venerdì santo tira fuori soldi e operai per la riqualificazione e su facebook esulta Valentini avanti ancora con le pagine che saltiamo perché riguardano l'inizio del campionato di Serie A ma ci torneremo andiamo allora nelle pagine di Chieti l'Aquila e Teramo a Chieti la tragedia di Vasto frate muore in spiaggia per un malore padre romano Cecolin 77 anni si accascia a pochi metri dalla riva era uno dei reggenti del santuario dei miracoli di Casalbordino e scompare da casa si cerca una donna da 45 anni di Vasto e poi ancora in basso picchia agenti per restare in Italia padre di tre figli prende a cinghiati i poliziotti meglio il fermo del rimpatrio e dunque evita quest'uomo evita l'espulsione strisciori contro sindaco e politici la rabbia degli ultras a Chieti situazione di assoluta incertezza per quel che riguarda la squadra teoricamente iscritta al campionato di serie D pagina dell'Aquila piano casa e la protesta Maxi Bolletti un inquilino minaccia di suicidarsi dramma sfiorato accese di preturo sul balcone dopo aver ricevuto il conguaglio richiesti pagamenti fino a 2500 euro la disperazione di molti pensionati alcuni dei quali vediamo mostrano i conguagli che sono stati da poco recapitati la polemica il rebus scuola d'Avezzano con 600 alunni in cerca di aule pietranzieri degrado sulla storia lampi abbandonati i luoghi dell'eccidio il sindaco non è vero e ora la pagina di Teramo viabilità le modifiche rotonde e piste ciclabili cambia il piano traffico a fine mese la rotatoria sperimentale all'incrocio tra via Fonte Regina e via Po i nuovi percorsi per le bici già finanziati attraverseranno tutta la città e poi l'abbiamo visto già nella prima pagina dell'edizione Teramana ecco qui si torna a parlare di questa polemica politica a Silvi Tiro Mancino in concerto e polemica sui costi giudicati eccessivi dalle opposizioni gli oltre 27 mila euro con cui verrà finanziato il concerto di domani di Tiro Mancino mio figlio ucciso da un'auto riaprite il caso la mamma Teramana che si è battuta per la legge sull'omicidio stradale lancia una petizione online finiamo per il momento con il centro con le pagine del centro andiamo a vedere ora il messaggero messaggero Abruzzo vediamo la prima pagina e quindi il titolo d'apertura pronto soccorso in affanno a Chieti anche 260 pazienti al giorno gli spazi non sono più sufficienti attese caos lavori in corso a Teramo l'ospedale sotto pressione per l'afflusso record di turisti poi sotto la testata eventi sport Avezzano magia del fare il comune multa se stesso per i manifesti giorno e notte spoltore ensemble e la serata palestinese dei radio dervish sport il pescara aspetta buyback e per la difesa rispunta Antei il Teramo saluta Madio e pensa all'ex centrocampista lancianese Vastora l'Aquila sfuma migliaccio mentre Lecchieti rimanda ancora l'inizio del ritiro ancora con certo jets per ricomprare i pc rubati in due scuole a Lanciano Ceramella e Di Toro a Largo dei Colli hanno raccolto 1500 euro e poi Giulianova unità complessa di cardiologia senza il primario Abruzzesi alle Olimpiadi di Fulvio semifinale fatale in taglio medio bolletta da 800 euro invalido minaccia di buttarsi nel vuoto all'Aquila terremotato dal progetto case vive con 280 euro al mese Pescara auto rimosse sulla ciclabile questa è la prima pagina del messaggero Abruzzo ora sfogliamo le pagine interne tua le esenzioni viaggiano in ritardo il numero verde tempestato di richieste d'Alessandro bisogna aspettare ottobre per ora abbonamenti a prezzo pieno successivamente gli eventi diritto saranno rimborsati dalla regione poi Movimento 5 Stelle costituzione coast to coast di Battista in moto a Giulianova il parlamentare in piazza del mare con i pentasterati abruzzesi per spiegare le ragioni del no poi vedremo anche sulla città c'è anche l'ipotesi di un blitz di Beppe Grillo a Giulianova Masterplan subito l'aeroporto Ortona in cassa casello e scalo tra le infrastrutture da realizzare entro il 2017 anche la piastra logistica industriale del Val di Sangro avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara politici all'aca si infiamma lo scontro Luciani spiega la sua richiesta per ripristinare un CDA e profetizza la corte d'appello annulerà il concordato Masci il PD ha quasi portato la società al fallimento e ora che è risanata vuole ricominciare come prima per riaperta la partita per l'azienda idrica Marinelli sindaco di Pianella si parli di contenuti e strategie e non di poltrone e poi le parole anche di Pettinari dei 5 Stelle proposta vergognosa che non mi stupisce presto anche le Ater sotto il controllo di vari commissari confermato a pescare il concerto della Manoia ma è giallo sul pagamento dell'evento negate le risorse dell'ipadriati che il comune rischia un debito extra forse taglia il caso alla corte dei conti avanti ancora 11 auto rimosse e raffica di multe a difesa dei ciclisti linea dura dei vigili urbani su viale regina Margherita sanzionate le doppie file per rendere sicura la pista ciclabile nella sola mattinata lo speed control ha verificato 234 veicoli in centro e ne ha scoperti 12 senza assicurazione Pescara Shopping decine di eventi accompagnano i clienti agli acquisti musica e sfilate da Corso Vittorio a Piazza Salotto e via Fabrizi sosta gratuita dalle 17 all'area di risulta sarà oggi appunto la festa del commercio voluta dall'assessore comunale Giacomo Cuzzi e poi con Ryanair ha vinto l'Abruzzo il presidente D'Alfonso il ministro del Rio ha riconosciuto il nostro contributo per la conferma della compagnia aerea ha annunciato investimenti per un miliardo di dollari in Italia da Pescara due nuove destinazioni Copenaghen e Cracovia dunque Danimarca e Polonia e allora su questo su questi nuovi investimenti di Ryanair andiamo ad ascoltare a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione Copenaghen e Cracovia sono queste le destinazioni europee di Ryanair che vanno ad aggiungersi alle attuali sette rotte garantite dal vettore low cost irlandese da e per l'aeroporto d'Abruzzo il prossimo anno a partire da aprile e per tutta la stagione estiva la capitale della Danimarca e la principale meta turistica della Polonia meridionale saranno direttamente raggiungibili da Pescara facendo seguito così al piano di espansione che Ryanair ha annunciato dopo il ritiro da parte del governo italiano della sovrattassa di 2,50 euro sui biglietti Cracovia rientrava nell'elenco delle sette destinazioni indicate da Ryanair subito dopo l'accordo con governo e regione Copenaghen invece è stata aggiunta attraverso incroci tra slot orari e calendario adesso restano in piedi altre sei rotte Dublino East Midlands Valencia Marsiglia Virnus e Varsavia per le quali Ryanair aspetta una risposta dalla regione Abruzzo collegamenti che rientrano nel piano di investimenti da un miliardo di dollari annunciato dal vettore irlandese in occasione della presentazione del piano nazionale sui trasporti alla presenza del ministro delle infrastrutture dei trasporti Graziano Del Rio in totale 44 nove rotte 21 su Roma e Milano e 23 sugli aeroporti regionali con notevoli ricadute su turismo ed occupazione l'amministratore delegato della Ryanair Michael O'Leary prevede una crescita di 3 milioni di passeggeri trasportati contando di raggiungere quota 35 milioni nel 2017 con un più 10% se così fosse sempre secondo Liri verrebbero creati 2250 nuovi posti di lavoro presso gli scali italiani il premier Matteo Renzi ha espresso la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto con la compagnia irlandese in un tweet cosa insegna la storia di Ryanair non solo in Abruzzo e in Sardegna giù le tasse la società regionale di gestione dell'aeroporto Saga in una nota ha fatto sapere come nel corso della conferenza stampa il ministro del Rio abbia voluto ricordare l'importante contributo del sistema Abruzzo alla trattativa e il ruolo del presidente D'Alfonso quale elemento trainante dell'intero processo di confronto e di individuazione delle soluzioni nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale Ancora sul messaggero Abruzzo il dopo ferragosto dei pescaresi è in Croazia con il catamarano in barca a vela le partenze per Kvar registrano il picco in questa settimana e i costi salgono per gli spettacoli e statica in scena per Rotta e Olla Giuliano Palma ha le Pajot ma è il momento quest'ora di fermarci finisce qui la prima parte di mattino 6 dopo la pubblicità andremo con la seconda parte Ancora buongiorno ben ritrovati con la seconda parte di mattino 6 riprendiamo la rassegna del messaggero Abruzzo con le pagine della provincia dell'Aquila Coca e Oppio nell'asilo occupato giovani denunciati dalla polizia svolta nelle indagini sulla struttura che si trova in via Duca degli Abruzzi l'edificio usato come luogo di spaccio anche dalla anche della terribile meta-anfetamina decisivi racconti di ragazzi bloccati di volta in volta e segnalati per l'assunzione di stupefacenti e poi ancora quel furto misterioso nell'ex chiesa del prete indagato per omicidio all'oggi vuoti polemica per le spese avanti ancora in basso verde acqua che la proroga di convenzione spaccatore in maggioranza polemico ma sciocco la pista di pattinaggio passa al comune ad Avezzano magia del fare il comune multa se stesso per i manifesti abusivi arriva una sanzione da 27 mila euro alla casa di Donatelli il presidente Ascom ricorre al prefetto l'organizzazione protesta in quanto la fiera è stata organizzata con la collaborazione della stessa amministrazione sulla vicenda sta nascendo una vicenda giudiziaria destinata ad essere ricordata a lungo avanti ancora con le pagine di Chieti e Provincia pronto soccorso accessi boom ma gli spazi sono insufficienti si registrano picchi di 260 pazienti al giorno l'incremento coincide con l'arrivo dei turisti gli utenti segnalano sale visite d'attesa inadeguate per contenere il grande flusso il reparto diretto da Maria Di Felice si appresta ad ottenere un altro importante riconoscimento per i servizi di qualità e poi ancora aggredisce i due agenti che devono rimpatriarlo un albanese è stato arrestato dalla polizia non voleva tornare a Tirana insieme ai familiari e poi in basso Legionella Maxi Bonifica nel polo del cuore avanti ancora Lanciano Mastro Giurato Via Soltanto i Mercatini sarà quello l'unico spostamento che verrà effettuato da Via dei Frentani alla nuova location delle torri montanare tutto confermato per le altre iniziative riguardanti la rievocazione storica che avrà un luogo il prossimo 4 settembre il presidente dell'associazione Danilo Marfisi spiega l'equivoco creato sui luoghi della manifestazione poi Malorin arriva al mare stronca un monaco il benedettino Luigi Ceccolina aveva 79 anni si trovava in vacanza a Casalbordino avanti ancora nelle pagine di Teramo ospedale lavori in corso il pronto soccorso finisce sotto pressione in continuo aumento l'arrivo dei pazienti al Mazzini e l'ambulanza anche il Conapo contro i mezzi privati resta in lunghe attese per le visite a causa del potenziamento non ancora concluso e dell'afflusso sostenuto di turisti il segretario Luigi Conti l'Abruzzo non può più permettersi i costi della convenzione poi a Teramo mercato dei fiori a largo porta Madonna ambulanti vietate le fiere fotocopie in Piazza Verdi i banchi verranno spostati al piano superiore ex ortofruttico lo spazio per eventi poi la cronaca salto al bar la polizia mette in fuga la banda ambulanti abusivi clienti nel mirino qui siamo a Giulianova task force sul litorale per reprimere il commercio irregolare per la prima volta sono stati identificati anche gli acquirenti l'assessore Grimi va bloccato il meccanismo domanda offerta che danneggia gli operatori in regola col pagamento delle tasse alcuni prodotti fabbricati in laboratori fuori legge sono pericolosi per la salute sempre a Giulianova bivio bellocchio trovate siringhe usate nell'asilo ad Alba Adriatica super bellezze risate e note rock stamane presentazione della finale di Miss Italia Tortoreto il cartellone dei concerti a Roseto pesca con la sciabica assaggi per tutti a Silvi prodotti ittici sequestrati e regalati alla Caritas ci fermiamo qui con il messaggero Abruzzo andiamo a sfogliare ora le pagine della città iniziamo dalla prima pagina con il titolo d'apertura di cui avevo fatto cenno alcuni minuti fa ecco qui probabile blitz di Grillo a Giulianova il leader 5 stelle atteso nel tour di Alessandro Di Battista per dire no al referendum sotto la testata e lì soccorso ai pompieri costerebbe di meno il sindacato dei vigili del fuoco rilancia l'idea lanciata dai medici di base Giulianova sgomberati vucumprà dalle spiagge senegalese da 25 anni vende in spiaggia appunto due articoli che sono nella pagina di Giulianova la fotonotizia al centro riacceso il Manacara il Tar annulla la sospensione decisa dal comune di Tortoreto e poi sventato un altro colpo all'AIP stazioni di servizio nel mirino dei ladri sulla Teramo mare poi i richiami per la pagina degli spettacoli il teatro canzone di Rocco Papaleo stasera a Villa Paris Silvi Sell scava il solco con il sindaco sulla variante poi per lo sport basket Teramo iniziata la stagione del ritorno in serie B andiamo all'interno delle pagine della città sventato un altro colpo alla stazione IP cercano di svaliggiare un magazzino sulla Teramo mare messi in fuga dalla volante della polizia guardia alta terrorismo e turismo controlli a tappeto da parte della polizia nel weekend di Ferragosto abbiamo realizzato su questo fronte abbiamo realizzato questo servizio servizi di vigilanza rafforzati in tutta la provincia di Teramo in occasione delle festività di Ferragosto in concomitanza con il massiccio afflusso di turisti nelle località balneari della costa tanto quanto nei centri dell'entroterra montano su indicazione del prefettore di Teramo sono stati posti in atto servizi interforze ad opera della questura con il contributo delle specialità polstrada polfer e volo del reparto prevenzione crimine della polizia e dai carabinieri con personale in divisa in borghese anche in orari serali e notturni al fine di garantire sicurezza residenti e turisti scorrevolezza del traffico e al fine di prevenire incidenti stradali soprattutto quelli conseguenza di guida sotto effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti particolare attenzione è stata posta poi alla prevenzione di furti in abitazione rapine in esercizi pubblici commercio ambulante abusivo vendita di merce contraffatta e contrasto della prostituzione dal 13 al 17 agosto in generale sono state 10 le persone denunciate ed una arrestata un trentenne teramano per spaccio di sostanze stupefacenti colto in flagrante a Martinsicuro un trentunenne segnalato per possesso di stupefacente per uso personale 13 le patenti e carte di circolazioni ritirate con un totale di 2267 persone identificate e 1910 automezzi controllati tre i veicoli sequestrati nella notte tra il 16 e il 17 agosto il personale della squadra volante ha sventato un tentativo di rapina presso un distributore di carburanti in un'area di servizio della terra o mare quattro persone travisate hanno cercato di forzare la porta del magazzino deposito ma alla vista degli agenti sono scappati nelle campagne limitrofe facendo perdere le loro tracce rilevante il contributo anche delle unità della guardia di finanza del corpo forestale dello stato dell'ufficio circondariale marittimo della polizia provinciale e delle polizie municipali dei centri più popolosi della provincia nell'ambito delle specifiche attività di competenza proseguiamo sulla città siamo a Teramo ecco come girerà il traffico nel nuovo rondò definita la circolazione al nuovo incrocio tra via Po via Flaiani e via Fonte Regina a settembre i lavori e poi ancora ad Albadriatica la Proloco ha fatto la furba con lo stello pubblicità di camere e prezzi prima dell'inaugurazione per il sindaco Tonia Piccioni creato un caso politico il comune afferma di aver inviato la lettera alla Proloco per invitarla ad adeguarsi alle prescrizioni ancora mancanti avanti ancora Tortoreto il presidente del Tar riaccende la musica al Manacara sospesa l'ordinanza di chiusura per due settimane emessa prima di Ferragosto dal comune di Tortoreto i legali contestano sia il merito del nuovo regolamento sulle attività rumorose che la forma regole pubblicate solo il primo agosto non il 7 luglio come sostiene invece il comune di Tortoreto avanti ancora a Giulianova da 25 anni vende borse in spiaggia scatta il settimo blitz anti-vucumpra con multe e sequestri una goccia nel mare dell'abusivismo e poi sempre a Giulianova probabile blitz di Beppe Grillo per il tour di Battista dopo il Ferragosto sullo Iotto in Costa Smeralda prevista oggi la prima riuscita pubblica del leader 5 stelle avanti ancora sempre con le pagine della città Pineto Pinettina la risposta del comune non convince per il vice sindaco la passeggiata sarà ampliata di un solo metro per il comitato basta e avanza per cancellare gli alberi a Silvi Selscava il solco con Comignani l'alleato ribadisce che il PRG Vallescura va cassato subito non approvato due anni dal voto mai discusso in maggioranza non è nel programma e poi la minoranza attacca estate silvalora troppi soldi spesi per eventi con scarsi risultati per la cultura Stelvio Cipriani incanta piazza Filippi Pepe il musicista e compositore si è esibito a Cividella del Tronto con tutto il suo repertorio e poi ancora gli eventi il weekend si apre con la mannoia tanti concerti in Abruzzo domenica i nomadi a Rocca di Mezzo e Marta sui tubi a Sant'Omero e a Silvi sabato ci sono i tiro mancino avanti ancora il festival Baskers spettacolo di strada da record mai così tanti spettatori a Pineto al festival degli artisti di strada promosso da Scerne Progetto 2000 poi ancora sempre per gli eventi Ron Adatri la carica dei 6000 con la forza di dire sì piazza Duchi d'Acqua Viva piena per il concerto del canto autore che poi si concede al pubblico la dedica speciale una donna viene colpita da un malore durante l'esibizione il cantante le ha dedicato una canzone della scaletta ecco qui alcuni scatti della serata atriana di Ron avanti ancora con lo sport iniziata la stagione del ritorno in serie B ieri mattina il via al raduno del Teramo Basket in vista del campionato soddisfatto il presidente Ermanno Ruscitti per il coach Piero Bianchi la società ha svolto un buon mercato allestendo una squadra pronta per affrontare la categoria poi ancora per il calcio di Lega Pro Teramo l'esordio a Lumezzane apre il torneo Biancorossi in campo per i primi per primi sabato 27 alle 16.30 e poi ecco gli orari fino alla terza giornata il Teramo torna in campo il 3 settembre nella prima in casa con il Bassano alle 16.30 poi la settimana successiva trasferta a Pordenone ore 18.30 abbiamo così introdotto la pagina dello sport prima di andare avanti andiamo sulla gazzetta e come vi abbiamo già annunciato all'inizio non ce l'ha fatta l'ortonese Paolo Nicolai a portare a casa la medaglia d'oro resta però una splendida medaglia d'argento dopo la finale persa poco fa la partita si è giocata alle 5 del mattino contro il duo brasiliano Alisson e Bruno Schmidt andiamo sulla pagina della gazzetta ecco qui Lupo Nicolai d'argento troppo Brasile nella pioggia l'Italia lotta ma perde 2 a 0 la partita appunto si è giocata sotto la pioggia ecco qui grazie all'ausilio di Gianni D'Areo nelle immagini Rai il momento della premiazione per Lupo e per l'ortodense Nicolai una splendida olimpiade partita in salita dopo la sconfitta in 3 set con la coppia messicana poi però la coppia italiana ha saputo reagire alla grande e intraprendere un percorso straordinario che ha portato che li ha portati appunto a giocarsi la finale contro la coppia una delle due coppie brasiliane presenti nel torneo che appunto ha vinto la finale 21 a 19 21 a 17 i parziali eccoli qua in particolare il nostro rappresentante Paolo Nicolai in entrambi i set la coppia italiana si era portata in vantaggio ma poi ha subito la rimonta della coppia brasiliana 5 a 1 il parziale iniziale del primo set e poi appunto la rimonta dei brasiliani Elison e Schmidt ma anche nel secondo set c'è stato un discreto vantaggio di tre punti poi comunque rimontato quindi leggendo qui sulla gazzetta i campioni del mondo Elison e Bruno Schmidt si impongono agli azzurri che non si arrendono mai troppa la differenza in campo la torcida non è fermata dalla pioggia comunque complimenti agli azzurri in particolare a Nicolai e ora l'Abruzzo aspetta un'altra medaglia magari quella di Francesco Di Fuglio che cercherà di vincere il bronzo nella finalina di Pallanotto maschile contro il Montenegro abbiamo dunque detto della partita che si è giocata alle 5 del mattino e si è conclusa dopo circa un'ora un rapido sguardo alle prime pagine di Gazzetta e Corriere dello Sport ecco qui la Gazzetta la mia Juve è d'oro a tutto Elcan da Rio al calcio e poi la Serie A secondo noi Pipita da Scudetto Banega la novità piazza la rivoluzione poi Rio 2016 Palombelle Rosa e schiacciate la doppia sfida al Colosso USA ore 20 e 30 palla a nuoto donne per loro ore 18 Italvolley a caccia della finale mancata ieri dal Settebello Trost e Rossit sognano nell'alto e poi ancora in basso la Vera Stella e il Sassuolo show della squadra di Di Francesco nell'andata con la Stella Rossa segno Berardi l'ex Biancazzurro Politano e De Frele il 3 a 0 sta stretto e poi qui Milan caccia il rinforzo Betancourt era fatto poi il no dei cinesi ora la prima pagina del Corriere dello Sport che apre così fuga dal Milan abbonamenti ecco un attimo il tempo di assestarsi poi possiamo leggere il titolo d'apertura come detto fuga Milan abbonamenti in picchiata mercato sotto accusa solo 10.000 tessere ma è così in basso negli ultimi 30 anni i giocatori acquistati non scaldano i tifosi poi sotto la testata Allegri piglia tutto ecco il quadrado bis in basso potere setterosa Little Volley ci crede a Rio 20.30 le ragazze vogliono loro i pallavolisti la finale alle 18 sfide agli USA Settebello KO e poi altri richiami per il calcio così l'Inter ha spinto i cardi verso il rinnovo nasce il Napoli dei baby talenti con Diavara e poi Sassuolo Show Berardi in gol Stella Rossa KO ci sono degli articoli che riguardano anche il Pescara andiamo a vedere dunque gli articoli intanto con le dichiarazioni del tecnico Biancazzurro Massimo Oddo che stiamo appunto cercando ok non le troviamo dovrebbe esserci anche un ecco qui un articolo di mercato che riguarda il Pescara Pescara buyback c'è oggi Oddo può avere l'attaccante del Paris Saint Germain rumors su la padula visti i problemi che sta avendo in questo momento l'ex attaccante Biancazzurro ecco qui l'intervista a Massimo Oddo tecnico del Pescara domenica Pescara Napoli spero che manchi più Higuain di la padula anche gli abruzzesi hanno perso il loro uomo di punta l'uomo di punta dello scorso anno come l'ho perso anche il Napoli il tecnico però resta fiducioso ho studiato bene Sarri il Napoli è stata la mia prima big mi piace molto ora cerca il risultato attraverso il gioco prima di vedere le pagine abruzzesi relativa allo sport e quindi anche al Pescara ascoltiamo l'intervista realizzata ieri da Paolo Renzetti all'assessore allo sport del comune di Pescara Diodati che parla appunto dello stadio Adriatico Cornacchia e dei lavori al Manto Erboso grande attesa per Pescara Napoli ci sarà il tutto esaurito allo stadio Adriatico assessore Diodati uno stadio Adriatico pronto che potrà accogliere nelle migliori dei modi questa grande sfida di campionato sì uno stadio Adriatico rimesso a lucido diciamo che insomma i lavori così come avevamo previsto si stanno concludendo tutti quanti nei tempi che avevamo inizialmente previsto abbiamo ancora qualche piccola cosa che dobbiamo fare però insomma si tratta di togliere il vetro di fronte alla tribuna VIP che verrà tolto però dopo la partita con il Napoli perché non faremo in tempo a farlo ora perché la ditta specializzata in questo momento qui è chiusa e quindi lo faremo per la prossima partita e poi insomma da sistemare queste ultime zone del campo che nella partita col Frosinone sembravano un po' rovinate in realtà e la rizzollatura del campo comporta insomma tutta una serie di situazioni particolari ma io ho fatto un sopralluogo ieri mattina allo stadio Adriatico la situazione è molto migliorata io credo che per la partita con il Napoli anche il campo sarà in perfette condizioni e per l'inizio del campionato di Serie A c'è un inserto all'interno del centro un inserto di 20 pagine parte il campionato sognare è un obbligo e poi si parla appunto subito di Pescara Pescara verso il debutto dubbio Manai Caprari la scelta del centroavanti condiziona anche il centrocampo e anche qui vengono riprese le parole del tecnico Massimodo spero che manchi più Iguain al Napoli che la padula a noi e poi l'ex tecnico Biancazzurro Galeone sprizza fiducia e scommette su Oddo questo gruppo può aprire un ciclo e poi altre dichiarazioni di Galeone il gioco e la mentalità della passata stagione possono fare la differenza anche in Serie A il modello da seguire è quello del Sassuolo di Di Francesco e poi io nell'87 vinsi a Milano domenica non mi dispiacerebbe una sorpresa all'Adriatico poi sul fronte mercato Baebec dice sì manca solo la firma ora salto a trotta con un occhio alla situazione la padura poi questa curiosità che insomma non è che sia proprio il massimo conferenze di Sarri solo su invito del club le conferenze del tecnico del Napoli pre partita si può andare solo se espressamente invitati dal club di De Laurentiis e poi ancora la certezza del Pescara si chiama Oddo il gioco offensivo del tecnico profeta in patria e la conferma del gruppo della promozione per inseguire la permanenza in Serie A e poi prosegue l'inserto con vari articoli c'è anche questo poster del nuovo Pescara tanti altri articoli sulle varie squadre che saranno protagoniste della prossima stagione in Serie A vediamo anche la pagina sul Pescara del messaggero Baebek si chiude oggi sul giovane attaccante del Paris Saint Germain anche gli olandesi dell'Utrecht ma i biancazzurri convinti di avere in giornata l'occhio del giocatore in difesa oltre all'interista Yao si riapre la trattativa con il Sassuolo per avere insieme a Trotta il centrale Antei poi Oddo elogi per Sarri un esempio da seguire ancora bloccato il mercato per il Delfino al tecnico serve soprattutto un goleador proseguiamo sempre sul messaggero Abruzzo di Fulvio la Serbia spegne il sogno olimpico azzurri sconfitti 10-8 in semifinale decisivo il 6-0 iniziale ora c'è la finale per il terzo posto con il Montenegro poi per la Lega Pro Amadio ai saluti per il Teramo Spunta Vastola serie D sfumato migliaccio l'Aquila Vira Superna intanto la società ha lanciato una nuova campagna abbonamenti sempre per la serie D per i chiedi slitta ancora l'inizio del ritiro e poi a proposito abbiamo parlato prima di Nicolae dell'argento olimpico ma a Ortona si riparte anche con il volley indoor la Seco si raduna l'ottimismo di lanci tanti tifosi applausi per la nuova formazione ortonese il coach ai ragazzi chiedo lavoro positività ed entusiasmo abbiamo pensato a ringiovanire l'organico perché vogliamo riaprire un ciclo e poi ancora basket di A2 Roseto un passo dall'ingaggio dell'ala pivot Lewis Briggs per il calcio giovanile ed annunzio successo del torneo a piedi scalzi e per il calcio direttantistico il Real Giulianova supera per 2 a 0 l'acqua e sapone ultimissimi minuti della rassegna stampa torniamo sul centro per vedere l'articolo sul Teramo sulla Lega Pro Teramo accelerazione per Amadio al Latina trattativa in via di definizione al posto del centrocampista in arrivo a Matute l'esordione girone B a Lumezzane sabato 27 alle 16 e 30 in serie di ufficiale la firma di La Vista ex giocatore tra gli altri del Pescara ma anche della Sante Giliese l'Aquila abbonamenti con Tessera Bebi e per il basket Campli e Teramo ripartono per stupire raduno in sede per le due realtà che hanno l'obiettivo della salvezza e la speranza di crescere in campo e fuori e invece la Proger chiedi parliamo dunque di A2 da lunedì al lavoro visite mediche per i biancorossi Davis arriverà mercoledì possiamo fermarci qui dunque con la rassegna stampa di mattino 6 io vi do l'appuntamento con le edizioni del nostro TG alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 e ringrazio in regia Gianni Dareo ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.